Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it Stiamo girando questo video demo a 1080p con il top di gamma della casa Wiko il Dark Full Hell con la fotocamera da 13 megapixel Iniziamo i nostri test, pan veloce Profittiamo di questa bella giornata di sole per fare un vero e proprio controsole torniamo a una illuminazione normale camminiamo un po' vediamo la messa a fuoco veloce ci ha piegato un po' però l'ha fatta molto bene proviamo lo zoom abbastanza morbido anche se in alcune parti è un po' scattoso lo zoom però devo dire che è abbastanza abbastanza bene perfetto quindi per questo video demo ho girato 1080p con Wiko Dark Full Hell e tutto un saluto da Shido per AndroidLive.it